Sta sorgendo un problema reale nel Bazzelit Circle di settembre su 40 sistemi che metto a disposizione 5 sono sulle valute. Stiamo parlando di Forex e sono sul franco svizzero, su euro e anche su Australian Dollar. Ma come? Ma io non ero sempre stato contro il Forex, quindi cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa cosa. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire che scrivo Trading System sulle valute in tre motivi molto ben precisi. Soprattutto l'ultimo è molto importante per il vostro portafoglio, ve lo posso garantire. Vi mostrerò un esempio specifico che avete vissuto anche sui mercati e che con le valute sarebbe stato leggermente differente. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video. Io sono Francesco Buzzi e sono un trader a tempo pieno dal luglio del 2017. Sono più di sei anni e che cavolo. Detto questo, passiamo subito alla questione, al noccio della questione. Perché tanti video ho fatto su questo canale contro il Forex, in generale contro il Forex. Io non trado il Forex e questa è una cosa molto divisiva. Ce ne rendiamo conto, però voglio andare oltre i soliti motivi. Cioè che non è un mercato regolamentato, che chi fa il Forex poi si concentra solo sul Forex e il Forex sono solo valute. Quindi non fa chissà che diversificazione. Bene, ho individuato tre motivi molto precisi, molto concreti. Motivo numero uno. Per cui io faccio trading system sulle valute e poi le trado sotto forma di future. I profitti. Trading system su valute creati col metodo scrocchiarello, mi sentirei di dire, fanno una caterva di soldi, se fatti bene. Questi sono alcuni esempi euro, appunto, sui trading system presenti nel Bazzillitz Year Call di settembre, quindi li trattano in decine di persone. Su euro, ancora euro però a 60 minuti, un sistema completamente diverso. Oppure uno Skyhook su euro, con un average trade di quasi 500 dollari. Pazzesco. Oppure appunto su Franco Svizzero, su Australian Dollar, ma potrei andare avanti una vita perché ho decine di sistemi sulle valute. E' il primo motivo per cui fare sistemi sulle valute, meglio non solo sul Forex, per i motivi che ho detto all'inizio, è che ci si fa un sacco di soldi. Il secondo motivo è che le valute sono un asset a sé. Sono completamente diverse dalle materie prime. Si comportano in modo diverso rispetto a qualsiasi altra categoria di future. Ed è per questo che li metto sempre nei miei Bazzillitz Year Call. Basta vedere l'elenco dei sistemi che metto a disposizione in ogni Bazzillitz Year Call ogni mese. E a fianco a crudoio, oro, rame, soia, cacao, gli indici, gli obbligazionari. Cioè tutti quei future che noi conosciamo molto bene e che hanno caratteristiche molto precise. Io metto sempre un tot di sistemi sulle valute. Metto sempre euro e poi se ci sono le condizioni metto Japanese Yen, Franco Svizzero, Canadian Dollar, questo mese Australian Dollar. Proprio perché fanno cose completamente diverse. E questo è il requisito fondamentale per fare i nostri portafogli. Terzo motivo, e qua tenetevi forte perché vi cadono le braghe, ve lo posso garantire, perché alcune valute, non tutte, alcune, hanno un comportamento assurdo dentro dei portafogli proprio quando i mercati crollano. Quando tutti vanno nel panico, alcune valute, adesso vi svelo quali, fanno da garanzia, da protezione del portafoglio. Per spiegarvi questa cosa potrei farvi vedere lo studio statistico che ho fatto lungo 20 anni con numeri statistiche tutto rigoroso, tutto preciso. L'ho lasciato agli studenti scrocchiarelli. A voi faccio vedere un esempio molto preciso. Marzo 2020, scoppia il Covid, l'SP 500 crolla del 30%. Sono tutti nel panico, questo è il grafico di S&P 500 a marzo del 2020. Tutti nel panico, è finito il mondo, sono finiti i mercati, perché voi non vi ricordate, ma queste erano le affermazioni. Tutti i portafogli del mondo, compreso quelli degli istituzionali, erano nel panico. Erano nel panico. Ci sono due valute che invece sono cresciute esattamente nella prima parte di tutto questo crollo, franco-svizzero e giapponisieno. Hanno questo effetto potentissimo sui propri portafogli che soprattutto sui crolli grossi salgono. Come sfruttarli con i trading system giusti, serve il metodo scrocchierello, metterli nel portafoglio, poi se non sempre serve. E qua si passa a uno step successivo. Bisogna padroneggiare tutte queste informazioni col metodo scrocchierello, magari. Oppure trarranno semplicemente i miei sistemi che metto a disposizione. Ma ecco perché. Non c'è mai una motivazione di bandiera. Sono pro o contro questa cosa o quell'altra. A me interessano dove vanno i soldi. Se c'è un vantaggio, se posso cavare dei soldi dai comportamenti di alcune valute, a posto, ben per me ci sono. Non c'è alcun problema. Ma come si fa a trovare questo vantaggio? Bisogna sapere dove cercare, come cercare e come valutare tutte le risposte che ci dà la piattaforma TradeStation. Appunto, se volete scoprire come costruire i sistemi, come scoprire questi sistemi, vantaggi, cioè il Master Scocchierello. Se volete direttamente tradare i miei sistemi, Bazzelli Circle, link in descrizione, info chiocciolabazzuai.it, numero verde 800 475 300 e basta. Ci vediamo al prossimo video, che non credo sia sabato perché c'è il video di recap del Bazzelli Circle, ma comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!